In una giornata bellissima, inclito e meraviglioso pubblico, siamo nel comune di Monte Roberto in provincia di Ancona, l'istituto Agrario Salvati dove ho due quinte e due quarte, due quinte che si disputeranno quindi l'accesso alla finalissima, vi presento però le squadre che giocheranno tutte quante con noi oggi. Allora in piedi Angela per la quinta A Agrario, è lei che schiaccerà la pulsantiera e rappresenta tutta la quinta A Agrario, per la quinta B Roberto, vengono in maniera del tutto accademica e quindi si preparano per vincere poi l'anno prossimo. La quarta B e c'è Riccardo alla pulsantiera e la quarta A dove abbiamo messo la pulsantiera Sara! Quello dietro è il fidanzato che l'ho visto proprio. Ok, allora cominciamo, 25 domande anche per gli amici a casa, saranno molto divertenti e anche specifiche sul piano studi dei ragazzi di Agrario. Prima domanda, si fa sul serio, se l'1 febbraio è lunedì, che giorno sarà San Valentino? Lunedì? Allora rispondete 1, martedì rispondete 2, domenica rispondete 3, mercoledì rispondete 4, giovedì rispondete 5. Che giorno sarà? San Valentino, una giornata così importante. Quando è San Valentino? Il 14? Ed è domenica! La quinta riesce solo una quinta, punteggio! La quinta ha 246 punti meglio degli altri che perdono tutti clamorosamente. Seconda domanda, questa è una domanda sul vostro piano studi, fate attenzione ragazzi. Che cosa sono i trattamenti a calendario? Eh, questa è specifica, eh? Allora, fatti in date prestabilite, schiacciate 1, sono consigliati sui lunari, schiacciate 2, cautelari a intervalli regolari, schiacciate 3, eseguiti nei giorni fertili, schiacciate 4, fatti solo nei giorni di bel tempo, schiacciate 5. Si stanno consigliando le quinte che giocano con noi, ma anche le quarte, la risposta esatta era cautelari a intervalli regolari. Gravissimo! Molto grave, la quarta ha un po' più veloce delle altre, Sara ha risposto più velocemente, ma avete sbagliato tutti quanti, dobbiamo ripassare, eh? Domanda sull'educazione civica, conoscenza del territorio, la c'è, la comunità economica europea, secondo voi in che anno è nato? Allora, vediamo un po', se è con il trattato di Maastricht potrebbe essere nel 1951, nel 1992, se è nel trattato di Lisbona è del 1951, se è, col famoso trattato di Roma è del 57, l'atto unico europeo è dell'86, la risposta esatta è 1957, trattato di Roma, la quinta B arriva dove gli altri non arrivano, è un po' più preparata, va? Bene quindi Roberto, domanda di storia, siete preparati? L'invenzione determinante della prima rivoluzione industriale, secondo voi ragazzi, quale fu tra queste? La locomotiva a vapore, il battello a vapore, la macchina a vapore, la spola volante o la trebbiatrice a vapore? L'invenzione determinante, avete dei professori straordinari, l'invenzione determinante fu una macchina a vapore, 4 su 4 complimenti, quarta! Non posso pensare che abbiamo una quarta più veloce della quinta, prossima domanda, quale attività non può essere definita secondo voi commerciale? Un'attività di trasporto? Oppure la vendita di libri in un negozio? Anche per voi a casa potrebbe essere la coltivazione del fondo, quindi la numero 3, l'attività di ristorazione è la numero 4 o la numero 5 è l'attività assicurativa? Allora, vediamo un po' quale attività non può essere definita commerciale? Come hanno risposto i ragazzi dell'agrario? Coltivazione del fondo! Sono bravi in tre, quinta A meglio di tutti! E allora dopo 5 domande andiamo a vedere la classifica generale per cominciare a capire quale potrebbe essere la classe che rappresenterà l'istituto agrario alla finalissima banca Marche. La quinta B è in testa! Bene, giustamente le quarti arrancano un pochino, ma c'è qualche domanda che è specifica per il piano del quinto, domanda di letteratura. Dove sarete preparatissimi? La coscienza di Zeno è stata pubblicata quando? Nel 1932, nel 1928, domanda numero 3 nel 1923, nel 1982, nel 1912. Allora, vediamo un po' insieme qual è la risposta esatta, 1923, bene in due! Zeno così, Zeno Rosini, non è male però! Allora, pulsantiera più veloce è quella della quinta A! Ce ne andiamo! Con la prossima domanda, qui vi abbiamo aiutato tantissimo ragazzi, la domanda di educazione finanziaria, che oggi è partita come suggerimento dalla dottoressa Argalia che è presente qui con noi. Di solito viene richiesta l'iscrizione di ipoteca su un immobile, in quale caso? Cioè, uno dice allora, ma io cerco un prestito personale, voglio l'ipoteca, no? L'apertura di credito in conto corrente? Un mutuo? Allora rispondete tre. Credito al consumo? Rispondete quattro. O per un matrimonio l'ipoteca. Potrebbe servire in caso di separazione. Allora, viene richiesta l'iscrizione di ipoteca sull'immobile in caso di mutuo! Siete preparatissimi per la soddisfazione di banca Marche! E la quinta B è più preparata degli altri, molto bene. Andiamo con la prossima domanda... Ahia, questo è difficile, questo è difficile, hanno scritto i professori diabolici. Un antiparassitario si può usare su qualsiasi cultura? Sì, e allora schiacciate uno. Due, solo in base all'esperienza. Tre, per quelle indicate in etichetta. Quattro, secondo la fase di sviluppo. O cinque, secondo la stagione di sviluppo. Vediamo un po' questo antiparassitario, così almeno lo spieghiamo anche a chi ci guarda da casa. Per quelle indicate in etichetta, rispondono bene in tre. Deve ripassare qualcuno. La quinta A! Deve ripassare la quarta B, eh? Mi raccomando, sull'antiparassitario. Non ne facciamo un uso sconsiderato, eh? Non se fuma, dico. Prossima domanda. Domanda di storia. Dove vi vedo ferratissimi. La prima guerra mondiale per l'Italia durò dal 1914 al 1918. Dal 1916 al 1918. Dal 1912 al 1917. Dal 1915 al 1918. O risposta numero 5. Dal 1915 al 1915. Qualche mese durata. Risposta 15-18. Quattro su quattro. Complimenti. Quinta B! A un passo dalla quarta B e quarta A. Siete tutti lì, eh? Complimenti. Ci randiamo con la prossima. Rapidi. Raggruppatevi vicino al vostro capo squadra. Raggruppatevi. Ragomitolatevi. Unitevi. Dovete essere velocissimi. La vicenda di Fontamara. Inizia nell'inverno del 29. Nell'inverno del 30. Nell'estate del 1930. Nell'estate del 1929. o nella primavera del 1929. Nell'estate del 1929. Fontamara, paesino bellissimo che ha portato alla quinta dei punti. La storia e il romanzo di Silone ambientato in Abruzzo. Vediamo la classifica generale dopo dieci domande. Quinta in testa! È cambiato tutto. Quinta in testa a 400 punti più o meno di distanza. No, esattamente. 400 punti. C'è la quinta B. Ci facciamo la prossima. Qui bisogna stare molto vicini al capo squadra perché vi do pochissimo tempo a disposizione. Carol Vojtila. Venne eletto Papa il 16 ottobre 1978. Vero? Quanti anni fa? 23, rispondete 1. 33, rispondete 2. 43, rispondete 3. 32, schiacciate 4. O 35, schiacciate 5. Gara velocissima. Stanno giocando anche i professori. Domanda che serve per guadagnare punti. Vi vedo soridenti. L'avete indovinata? 35. Ah, ma qui si va sul belluto. Quinta B che calcola meglio degli altri. Domanda su riciclo ambiente. Vi viene presentata dalla Comieco che è il consorzio per il recupero e il riciclo di carta e cartone. Che chiede? Il mozzicone della sigaretta gettato a terra. Abbiamo dei fumatori? Qualche fumatore. Bene. Non so se siete avvantaggiati. Il mozzicone della sigaretta gettato a terra. Uno. Si scioglie con la pioggia senza danni per l'ambiente. Due. Essendo di carta può essere riciclato. Tre. Molto inquinante perché contiene nicotina, benzene, gas tossici. Quattro. Ogni mille gettati si vince. Un panda? Cinque. Nessuna delle precedenti. La risposta, ma è chiaramente la numero tre. Molto inquinante. Bene. Avete tutti guadagnato punti. La quinta ne guadagna più degli altri. Siamo arrivati a metà. C'è tensione. Il suffragio universale in Italia venne introdotto durante la seconda guerra mondiale? Schiacciate uno. Nel primo dopoguerra? Schiacciate due. Nel 1912? Schiacciate tre. Nel 1882? Schiacciate quattro. Nel secondo dopoguerra? Schiacciate cinque. Quinta e quarta? Tutti quanti hanno indovinato. Nel secondo dopoguerra? Risponde più velocemente delle altre. La quarta A. Che ruba spazio e punti preziosi alle quinte. Ah, vedi. Sembra facile, ma forse non lo è. Prestate attenzione. La macerazione carbonica è usata per ottenere quali vini? Vini dolci da dessert? Uno. O la macerazione carbonica produce vini sfumanti bianchi? Due. O i vini novelli rossi? Tre. O le grappe invecchiate? Quattro. O l'aceto balsamico? Cinque. La risposta esatta è una e solo una. Vini novelli rossi. La quarta A. Prima degli altri. Roberto. Che vini avete prodotto voi? Un vino da schifo. Beh, se in effetti non siete corretti nella procedura, sono dolori. Prossima domanda. Attenzione alle quinte e le quarte. Con il valore complementare di un'azienda agricola si determina, attenzione, con il valore complementare. Determiniamo il danno provocato da un furto, oppure il danno fatto da un esproprio parziale, l'utilità di un'attrezzatura, l'utilità di un uomo fabbricato. Ripassiamo insieme. Ho la quota di eredità di un'erede, con il valore complementare. Il preside vi guarda. Trema. E il danno fatto dall'esproprio parziale. Riesce solo la quarta A. Vado dopo 15 domande alla classifica parziale. Vediamo un po' in classifica generale che cosa è successo. In testa la quinta A. Con 2800 punti. Si stanno avvicinando minacciose le quarte. Non vorrei mai. Piano studi. Vediamo un po' che cosa succede. La regione vi presenta questa. Quando è entrata in vigore, secondo voi, la Costituzione? 2 giugno 1946. 1 gennaio 1948. Risposta numero 3. 18 aprile 1948. Risposta numero 4. L'8 settembre 1943. O il 25 aprile. Era il primo gennaio 1948. Bene. In tre. Quarta A ancora. A pari merito con la quarta B. Roberto. Alzate in piedi. Giocate 5 minuti allo schiaffo del soldato. Vi svegliate un po'. Ma cosa ti suggeriscono questi ragazzi? Prossima domanda. Sulla Costituzione qualcosa che va rivista. Adesso vediamoci invece. Vediamo di misurarci con il vostro piano studi. Che cosa dice la domanda? Per avere un mutuo quali garanzie accessorie? Garanzie accessorie ci vogliono. Questa la sapete ragazzi. Polizza vita per il debitore. Risposta numero 1. Deposito di una somma vincolata. Risposta numero 2. La numero 3. L'ipoteca sui beni dei familiari. La numero 4. La polizza contro gli eventi dannosi. E la numero 5. L'assenza di procedimenti penali. E può ingannare in effetti. Però per avere un mutuo. Le garanzie accessorie. Sono la polizza contro gli eventi dannosi. Complimenti. Va da ripassare questa. Quinta big. Quella che è andata un po' più veloce. Negli altri. Magra consolazione. Perde solo 88 punti. Da rivedere con i vostri professori in attesa dell'esame di maturità. Raggiunta a proposito la maturità. Raggiunta la maturità fisica ragazzi. Che cosa si allunga? Di 0,22 mm ogni anno. Il dito mignolo. L'orecchio. Il collo. Numero 4. Quella zona lì. O la lingua. Questa è molto curiosa. Allora sappiate che si allunga l'orecchio. Chi ha sbagliato? Allora risposto più velocemente degli altri. La quinta big. Che guadagna 263 punti. Lo statuto dei lavoratori. Torniamo seri. Che cos'è? È una legge speciale. 1. 2. Una legge ordinaria. 3. Una legge costituzionale. 4. Una parte della costituzione. 5. Un regolamento ministeriale. Che cosa mi dite? Lo statuto dei lavoratori. È importante no? Statuto dei lavoratori. è una legge speciale. Rispondono male. Ripassare. Ripassare. La quarta magra consolazione. Bisogna ripassare qualche elemento. È importante. Vediamo se sulla storia siete sufficientemente preparati. Dai. Che stiamo andando veloci verso la fine. La crisi economica del 1929 iniziò con il crollo della borsa di Hong Kong, il fallimento della banca tedesca, oppure 3. Il crollo della borsa di Wall Street, 4. Il fallimento bancario americano o 5. Il fallimento dello Stato americano. La famosa e esagerata crisi economica del 1929 cominciò con il crollo della borsa di Wall Street. 4 su 4 straordinari complimenti. La quarta A. Vuoi vedere? Allora 20 domande. Andiamo a vedere la classifica generale. In testa. La quinta A. Ancora. Avanti la quarta A. Si muove bene la quinta B. Un po' meno. Devo dire la quarta B. Ma ci sta. Ultime. Ultime 5 domande. Attenzione. Il conto culturale serve per programmare senza spese aziendali. Massimizzare l'utile aziendale. Tre. Calcolare la manodopera necessaria. Quattro. Scegliere le macchine agricole. O forse cinque. Il conto culturale serve per richiedere i contributi pubblici. Come rispondono i ragazzi dell'Agrario Salvati? La risposta esatta è la numero due. Massimizzare l'utile aziendale. Funziona perché ha risposto bene la quarta B. Adesso funziona. È riuscita la quarta dove non sono riuscite le quinte. Domanda sul volontariato proposta e promossa dall'Avis. La quarta ultima domanda. Un donatore di sangue deve pesare più di 60 kg. O forse 70 kg. Cioè come minimo deve pesare. Più è grasso meglio è? 80 kg o 50 kg. La risposta lo sapete. L'abbiamo parlato anche prima. È 50 kg. Bravissimi. Risposta numero 5. Bravi tutti e quattro. E la quinta. Sì. Guadagna più degli altri 287 punti. Quale elemento ragazzi favorisce l'azione dei batteri del rumine? Antibiotici. Uno. Azoto ammoniacale. Due. L'acqua. Tre. Le vitamine. Quattro. O le proteine. Cinque. Stop. Tempo scaduto. Era l'azoto ammoniacale. I più preparati per un ottimo esame di stato sono quelli della quinta B. Terza ultima. No, anzi penultima domanda. La quota di assicurazione. A che cosa serve? A scegliere una polizza assicurativa. A cautelarsi contro fatti negativi. A proteggersi dagli infortuni. Ad entrerla dal reddito. o la quota di assicurazione serve per avere un finanziamento. vediamo un po' anche a casa divertitevi con noi. e la risposta esatta era cautelarsi contro fatti negativi. La sapevano tutti quanti. Bravi, bravi davvero. La quinta A più brava degli altri. C'è una rimonta. Vediamo che è successo. Siamo arrivati all'ultima domanda. L'applauso generale delle quarte e delle quinte del salvati. Prima dell'ultima domanda che vale doppio. Tenetevi forte, fate gruppo. La domanda è la seconda guerra mondiale. Iniziò con l'invasione dell'Austria. L'invasione della Polonia. La risposta numero tre. La campagna in Russia. La guerra civile in Spagna. O l'invasione della Danimarca. Fu l'invasione della Polonia. Quattro su quattro. Bravissimi. Allora, voglio in piedi Angela Riccardo, Sara e Roberto che sono i rappresentanti delle quarte e della quinte che hanno oggi sfidato i professori nelle quindici domande. Eh? Eh, però qualche volta funzionava quando rispondevi esattamente. Allora, le quarte e le quinte che hanno sfidato i professori. Risposto abbastanza bene. Vediamo quale sarà allora la classe che rappresenterà l'istituto alla finalissima. Andiamo con la classifica. Non va in finale. La quarta B. Purtroppo Riccardo, ciao. Un applauso. Due mila seicentotanta punti. Non va in finale. Non va in finale neanche la quarta A. Quindi, ciao Sara e tutti i ragazzi. Sono rimaste quindi le due quinte. È possibile fare un po' di caos e fare ooooh. E sfidiamo i ragazzi in attesa di vedere che cosa succede. Diamo volume. Regista, volume. Vi serve la musica bella alta e sentiamo che cosa succede. Quinta B. Quinta A. Emozionante, eh? La classe che va in finale a Banca Marca, la finale regionale. È la quinta. È la quinta. È la quinta. È la quinta con Sara, Angela e tutti quanti. Vi ringrazio e vi saluto con un applauso generale dall'Istituto Agario Salvati. Ci vediamo domani per un'altra puntata di High School Game. Motiviamo i ragazzi a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro. Istituto di istruzione superiore Egisto Peralisi. La certezza del lavoro. Diploma in manutenzione e assistenza tecnica. Qualifica regionale in operatore meccanico di impianti idraulici alla riparazione dei veicoli a motore. Produzioni industriali e artigianali. Qualifica regionale in operatore delle produzioni chimiche e nuova qualifica di operatore dell'abbigliamento. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Qualifica regionale in operatore agricolo e della trasformazione agroalimentare. L'Ipsia Peralisi di Iesi e l'Ipsia Salvati di Monte Roberto vi aspettano a scuole aperte. Domenica 2 e 16 dicembre. Sabato 19 e domenica 20 gennaio. Sabato 9 febbraio. Vieni a conoscerci. Ti aiuteremo a costruire un domani pieno di certezze.